Aprire i confini e puntare sull'internazionalizzazione del sistema universitario significa investire sul futuro dell'Europa e sul ruolo dell'Italia all'estero. E' questo l'impegno rilanciato dal Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni durante la seconda conferenza annuale Reti e Agenzie di Internazionalizzazione in Europa, ospitata alla Farnesina il 21 novembre. L'evento ha riunito le maggiori agenzie europee di internazionalizzazione universitaria, accademici e rappresentanti istituzionali per aumentare l'integrazione del sistema accademico italiano ed europeo e promuovere l'attrazione di studenti provenienti soprattutto dalle aree emergenti. Siamo sempre stati un paese che punta, scommette sull'internazionalizzazione. Vogliamo farlo nei paesi in cui già le antenne di questa iniziativa sono presenti, dalla Cina al Brasile a molti paesi europei. Vogliamo farlo sempre più o almeno io spingerei a farlo sempre più anche nel Mediterraneo che è l'area in cui oggi c'è più bisogno forse di un messaggio di integrazione, di crescita culturale, di cooperazione e coesione. Attività di internazionalizzazione nell'ambito formativo significa oggi almeno tre cose fondamentali. Primo sviluppare flussi di studenti, di docenti e di ricercatori nell'ambito della comunità scientifica e accademica internazionale. Il secondo punto non accessorio riguarda l'integrazione dei percorsi di studio. Il terzo punto è la condivisione e la interscambiabilità delle esperienze lavorative successive al momento della formazione. Pensiamo agli scenari complicati che investono aree a noi molto prossime e pensiamo di quanto per la sicurezza possa essere necessario consolidare quei rapporti sul terreno della conoscenza, degli studi, dello sviluppo della ricerca. La conoscenza di altri contesti educativi e lo scambio fra culture costituiscono a nostro parere il primo fondamentale tassello del più generale e complesso processo di accoglienza integrazione delle popolazioni straniere. È per questo che noi di Unitalia abbiamo pensato fosse necessario un momento di confronto con le altre agenzie europee che hanno come compito quello di attirare studenti stranieri.